Stesso successo dello scorso anno a livello organizzativo, stesso vincitore del 2017. E' andata in archivio con giudizi estremamente positivi la diciottesima edizione della Trani Dubrovnik. Il challenge internazionale di vela d'altura ha organizzato da Enzo Ormas insieme a Lega Navale di Trani e d'Orsan Club di Dubrovnik che ha tagliato il traguardo della diciottesima edizione. Ad imporsi è stata ancora una volta l'imbarcazione croata di Dubrovnik che ha avuto modo ed occasione così di bisare il successo già ottenuto nella passata stagione. Circa 100 le miglia marine percorse da una costa all'altra del Mar Adriatico. Era necessario farlo entro 30 ore di navigazione per trovare posto nella classifica generale. Dubrovnik ha completato la propria fatica con il tempo reale di 12 ore, 42 minuti e 15 secondi solo in un finale appassionante è riuscito ad avere la meglio nei confronti di buona vista dell'armatore Luigi Panerale, portacolori del Cusbari. Decisamente più staccate le altre imbarcazioni, l'ultimo gradino del podio è andato a soft dell'armatore Graziano Giobbe del Circolo della Vella di Giovinazzo che l'ha spuntata su Black Coconut di Salvatore Di Corato e della Lega Navale di Manfredonia. Nella classifica dei liberi invece da segnalare l'eccellente primo posto di Ola, la barca dell'ex fuoriclasse di sci alpino Ivica Kostelitz, giunto terzo a livello assoluto. Oltre agli aspetti sportivi infine la Trani Dubrovnik ha messo anche quest'anno in vetrina numerose iniziative di intrattenimento e soprattutto valorizzazione dei due territori, a dividerli c'è il Mar Adriatico ma mai come quest'anno Trani e Dubrovnik sono state virtualmente molto vicine e non solo per il challenge internazionale di vela d'altura ma anche per il protocollo d'intesa firmato a Trani dai rispettivi rappresentanti istituzionali prima della partenza della regata.